In ogni sua opera, Franco Bocchi invita lo spettatore a partecipare al paesaggio, ad immergersi nella natura che rappresenta, ad assaporarla, a carpirla, provando sensazioni vere ed immediate, come fosse realtà. La bellezza è lo splendore della verità, e Bocchi persegue con fervore questa ricerca, con un insieme di saggezza e ardore che non ha mai perso. Non esistono misteri né spiegazioni, esiste un accurato lavoro. Perciò Bocchi riesce nella sua opera pittorica, trasformando la danza fisica della luce in offerta magica, poetica ed appassionata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.